Musica Mercoledì 28 giugno 2017, buongiorno, bentrovati all'appuntamento di oggi, consueto con la nostra rassegna stampa, lettura dei giornali, che come sempre iniziamo con le prime pagine del centro, oggi si ricorda Santireneo di Lione. Prima pagina del centro, eccola qui inquadrata, edizione di Pescara, una notizia che arriva proprio dall'Interland di Pescara, anzi da Pescara e Chieti, per meglio dire, meningite, ricoverata studentessa universitaria d'annunzio, trovata in stato di semi-incoscienza, profilassi per 12 amici. Poi vedete la foto a centro pagina, siamo in estate, è arrivato il gran caldo, è questa la stagione dei roghi e si accendono le polemiche, poi si parla di come l'Abruzzo si prepara, speriamo ce ne siano davvero pochi, agli incendi. E poi vediamo le cronache da Pescara e provincia, Pescara vacanza da incubo per quattro anziani, dimenticati dal pullman in autostrada, e poi a Francavilla, altro schianto in Galleria, la Galleria Le Piane, dove qualche giorno fa ci fu un incidente immortale, in questo caso è andata decisamente meglio, con due persone rimaste ferite, fortunatamente non in maniera grave. Poi a Città Sant'Angelo, dove c'è stato un arresto operato dalla polizia di un giovane, di uno straniero che è stato fermato per tentato omicidio. E poi vediamo anche le cronache regionali, all'interno del giornale, oggi ne dico, c'è un'intervista a Corina Cretu, per quanto riguarda che è commissaria dell'Unione Europea e che parla dei fondi che l'Unione Europea metterà a disposizione, oltre un miliardo di euro per la ricostruzione. E poi il caso dei fondi per la rimozione delle macerie, anche in questo caso c'è un articolo all'interno del giornale. Tornando a Pescara, a fondo pagina, si parla della situazione difficile di tanti che sono costretti a fare i conti con le difficoltà, difficoltà soprattutto in questo caso economiche. Cento poveri al giorno a San Cetteo, file di disperati chiedono aiuto. La parrocchia lancia una lotteria, la parrocchia di Pescara, tra l'altro anche la cattedrale di Pescara San Cetteo. E poi il calcio, calciomercato, per parlare del Pescara, che ha chiuso un acquisto importante, si tratta del difensore Barison. Lasciamo la prima pagina del centro, edizione di Pescara, andiamo a vedere l'edizione dell'Aquila, la prima pagina del centro, giunta a Biondi, ecco i primi nomi, l'Iris Forza Italia sarà vice sindaco alla ricostruzione, ipotesi di un tecnico esterno. E poi dalle elezioni dell'Aquila a quelle di Avezzano, Anna Trazoppa, patto contro i Volta Gabbana. Siamo ovviamente ad Avezzano e poi ancora l'Aquila, bombola esplode e ferisce due vigili del fuoco, a Pescina imbrattata la tomba dello scrittore Ignazio Silone. Poi in basso, polemica nella Marsica, ciclisti al numero chiuso nel parco, Sirente e Velino sono dannosi alla Gran Fondo, solo in Cento. E poi in Valle Peligna, da Piovani a Cirilli, ecco l'estate di Sulmona. Siamo alla pagina del centro edizione di Teramo, azienda a fuoco, 190 posti a rischio. Teramo si tratta per salvare gli operai della Richetti, le centraline escludono l'inquinamento. E poi acqua razionata è colpa dei consumi anomali, soprattutto problemi ad Atri, Silvia, in Val Vibrata. E poi a Teramo apre a luglio la variante di Villa Mosca, Giulianova ricostruite la Pagliaccetti, dove è adesso questa la richiesta di genitori. E poi in basso, Prati di Tivo, seggiovia chiusa, scaduta la gestione, adesso è a rischio la stagione estiva. E chiudiamo per quanto riguarda le prime pagine del centro, con l'edizione di Chieti, dove ritroviamo il titolo di apertura anche dell'edizione di Pescara, con questa studentessa che è stata ricoverata, ricoverata, studentessa di 22 anni, ricoverata per sospetta meningite. Poi San Vito, colto da malore in acqua, muore 61enne. Di Ortona ritroviamo anche sull'edizione di Chieti del centro l'incidente nella galleria Le Piane di Francavilla, dove, come dicevamo prima, morì qualche giorno fa un giovane. E poi Tornareccio, falso avvocato, primo arresto per la truffa. E poi in basso andiamo a San Salvo, no, ad altri 70 profughi. La sindaca Magnacca dice al prefetto, ci ripensi, la città ha già dato. E poi ad Ortona, l'opposizione, dice al sindaco, al neosindaco di Ortona, Leo Castiglione, saremo costruttivi. Vediamo anche, come sempre, la prima pagina dell'inserto, Abruzzo, del messaggero, oggi in edicola, il giallo del delitto in alto mare, una brasiliana imbarcata per lavoro scomparsa a largo di Pescara, la procura apre un'inchiesta per omicidio volontario, aveva una relazione con un collega. E poi, vedete in alto le celebrazioni, l'anniversario di Pirandello e quella novella su Città Sant'Angelo, poi appuntamenti dell'estate, con funambolica ed estatica, al via le rassegne di Pescara, e poi slalom tra le auto e pericoli, il caos della pista ciclabile. Siamo sempre nel capoluogo adriatico. E poi, vediamo altre notizie sulla prima pagina del messaggero, le insidie del web, pescarese in i guai, finto sedicenne ad esca ragazzine, poi l'aquila politica, centrodestra risorto, nel PD e caccia alle streghe. Poi anche sulla prima pagina del messaggero, torniamo alla vicenda dell'incendio del Richetti, teramo incubo, dopo il rogo, fabbrica distrutta, stop al consumo di ortaggi. E poi, tuffi proibiti, vedete il caso con l'articolo di spalla, tuffi proibiti nel parco, e bufera per le multe. Chiudiamo con le prime pagine, con quella della città, dopo il rogo pericolo amianto, Arta, Asl e Zoprofilattico, mobilitati per le analisi dell'aria e del terreno attorno all'azienda distrutta. Dall'incendio, lasciamo le prime pagine, dunque, dei nostri quotidiani, poi torneremo tra pochissimo, ovviamente, a dare uno sguardo all'interno dei giornali che troverete oggi in edicola. Possiamo, come sempre, andare a vedere la rassegna nazionale, tanti titoli importanti sulle prime pagine dei giornali. Partiamo dalla stampa di Torino, Google, l'Unione Europea, alla crociata, anti-Google, perché c'è stata una multa salata, se così vogliamo dire, da parte dell'Unione Europea, al colosso Google. E poi, allarme sbarchi, il Governo pensa a mini tendopoli. Andiamo avanti, Corriere della Sera, Prodi e i leader contro Renzi, critiche da Franceschini, a sala, ovviamente si parla del risultato non esaltante alle ultime amministrative per il Partito Democratico. In alto, vedete, la multa record a Google, 2 miliardi e 400 milioni di euro pronti a impugnare il verdetto europeo, dice il colosso multato. E poi un'altra notizia che troviamo su tutti i giornali di oggi, perché il magistrato PM Woodcock e la giornalista Federica Sciarelli sono stati indagati nell'ambito dell'inchiesta su Consip. Andiamo avanti, Repubblica rivolta nel PD, Prodi contro Renzi, Franceschini dice qualcosa, si è rotto il Fatto Quotidiano, tutta la verità sul, tra parentesi, non caso, fatto Sciarelli e Woodcock, indagati il PM e la giornalista, ma è un equivoco, scrive il Fatto Quotidiano, poi la politica, il PD a pesci in faccia, Renzi contro Prodi, Franceschini furioso, il giornale, chi l'ha visto? La Sciarelli cercava, Papa Renzi, fuga di notizie sul caso Consip, accusati Woodcock e la compagna, finalmente, una toga risponde per i verbali, usati politicamente, scrive il giornale, e poi vedete a centropagina, Renzi umilia Prodi, ira del partito, democratico libero, qualcosa cresce, la miseria, Italia in malora, grazie alle banche, e poi vedete a centropagina, milioni a Fazio, e dita negli occhi agli altri, si parla della vicenda Fazio, con le polemiche, attorno all'ingaggio, dell'anchorman, che dovrebbe lavorare, lavorerà anche per i prossimi anni, alla RAI, e poi siamo al quotidiano, la verità, Consip, chi tocca Renzi muore, il PM Woodcock, che aveva aperto l'inchiesta a Napoli, è indagato a Roma, per rivelazione di segreto d'ufficio, assieme alla giornalista Federica Sciarelli, tutta l'inchiesta, scrive la verità, rischia grosso, e poi, vedete questa foto, che troviamo nella parte alta della pagina, uccideranno Charlie, contro il volere dei genitori, la Corte dei diritti, gli ha negato il diritto di vivere, parliamo di questo piccolo, di questo bimbo, che è le prese con grossi problemi di salute, questa vicenda, che ormai si trascina, da diverso tempo, e la Corte dei diritti, come leggiamo qui dal quotidiano La Verità, avrebbe negato, con questa decisione, il diritto di vivere a questo bambino, e polemica, perché tutto questo è arrivato, contro il volere dei genitori, e poi vedete, più in basso, a centro pagina, si torna a parlare di politica, anche sulla verità, Prodi guida la vendetta, dei DC contro il bullo, il professore dice, sono lontano da lui, lo molla pure Franceschini, è partita la caccia al segretario, evidentemente, il bullo, in questo caso, sarebbe Matteo Renzi, che non è comunque nominato, esplicitamente, in questo titolo, siamo al manifesto, Ius Solo, la batosta elettorale, Isola, Matteo Renzi, vedete il titolo ad effetto del manifesto, e poi, in alto, quest'altra notizia, grave, che arriva da Torino, licenziata e senza sussidio, si dà fuoco, a Torino, la disperata protesta, di una disoccupata, in un ufficio, IMS, donna ricoverata in gravi condizioni all'ospedale, si trova in coma, e poi, il quotidiano, il dubbio, Woodcock e Scharelli indagati, sono loro le spie, questo è il titolo principale, su questa vicenda, e poi, foga di notizie, anche il tempo apre, sulla vicenda, che vede, indagati, nell'ambito del caso Consip, il PM napoletano John Woodcock, e la giornalista Federica Scharelli, e poi, in basso, vedete una notizia, che riguarda il Partito Democratico, perché, secondo questo dossier del tempo, il partito sarebbe stato abbandonato, negli ultimi anni, da 6 milioni di italiani, 6 milioni di elettori, che evidentemente, non votano più, il Partito Democratico, in basso, un'altra notizia, luttuosa, che riguarda il mondo, della televisione, perché è scomparso, a 77 anni, il presentatore tv, ma anche, grande anchorman, della televisione italiana, tra l'altro, ha scritto, canzoni importanti, anche per, cantanti, che hanno fatto, la storia, della canzone italiana, come in mina, Paolo Limiti, scomparso a Milano, all'età di 77 anni, il messaggero, a sedio a Renzi, strappo di Prodi, da Franceschini a Orlando, a Del Rio, piovono critiche, per la chiusura, alle alleanze, a sinistra, e dunque, c'è maretta, nel Partito Democratico, e poi, record di sbarchi, 10 mila, in quattro giorni, e poi, società del Campidoglio, Vicenza, 669 dipendenti, scaduti, tutti gli appalti, siamo al quotidiano avvenire, trafficanti assassini, in Niger, 52 abbandonati, senza acqua, nel deserto, 10 mila, i migranti, salvati, in mare, in quattro giorni, vedete anche su avvenire, ritroviamo la notizia, di questa, piccola, Charlie, sentenza di morte, per Charlie, sconfitti, i genitori, questa vicenda, che sta davvero creando, tante polemiche, poi Google, dall'Unione Europea, Maxi Multa, per lo shopping, andiamo avanti, il secolo XIX, attacco a Prodi, Renzi in trincea, bufera nei dem, da Orlando a Franceschini, il PD deve unire, non dividere, dicono gli esponenti politici, del Partito Democratico, e poi vedete in basso, Caso Consip, indagati, Woodcock e Scharelli, il mattino di Napoli, in alto, Caso Consip, anche in questo caso, si parla, della vicenda, del PM Woodcock, e della giornalista, tra l'altro, conduttrice, della seguitissima, trasmissione, Rai, chi l'ha visto, Federica Sciarelli, appunto, indagati, nell'ambito, dell'inchiesta Consip, poi l'assedio a Renzi, logora, il Partito Democratico, Prodi attacca, e dice, starò più lontano, la Gazzetta del Mezzogiorno, il PD vuole Rottamare Renzi, Prodi stare più lontano da lui, già fatto, dice, uno, dei big del partito, seppur Prodi non abbia incarichi ufficiali all'interno del Partito Democratico. Gazzetta del Mezzogiorno, l'ultimo quotidiano che prendiamo in esame per quanto riguarda la rassegna nazionale, e ora possiamo tornare, dunque, ai quotidiani di casa nostra, ripartendo, ovviamente, dal quotidiano Il Centro, per andare a vedere le notizie, all'interno, appunto, del giornale, notizie di oggi, che riguardano, ovviamente, la politica, il post-elezioni, la cronaca, ovviamente, anche lo sport, per parlare di calciomercato, degli ultimi acquisti, delle formazioni abruzzesi. Partiamo, dunque, dalla Centro, pagine interne, incendi e polemiche. Si parla, ovviamente, di quella che, purtroppo, la stagione degli incendi, siamo in estate, ovviamente il caldo, che spesso favorisce i roghi, oltre anche, alla mano dell'uomo, che spesso comporta, proprio causa degli incendi, e parla il presidente, della regione, Luciano D'Alfonso, che dice, ecco la rete regionale, per prevenire e contrastare i roghi. Il governatore in campo, dopo l'affondo, del forum dell'acqua, che citava, il capo della protezione civile, Curcio, dal primo luglio, servizio assicurato, dice il governatore, un elicottero di base a Pescara, un secondo disponibile, in caso di bisogno. Poi vedete, nella pagina successiva, la forestale, non c'è più, ora puntiamo sui volontari, perché, non essendoci più la forestale, il corpo forestale dello Stato, il corpo confluito, nell'arma dei carabinieri, resta in mano ai vigili del fuoco, la competenza, per quanto riguarda, lo spegnimento degli incendi. E poi, dieci anni di fuoco, da San Giuliano, al Salviano, vedete in basso, a pagina 3, si parla degli incendi più grandi che hanno colpito, che hanno riguardato la nostra regione negli ultimi anni. E poi vedete scontri politici, ma siamo alla cronaca nazionale, che abbiamo già visto dalle prime pagine dei nostri quotidiani, Renzi sfida la sinistra, grande gelo, con Prodi. Andiamo avanti, per arrivare alle pagine di cronaca regionale, sempre dal centro, si parla di sisma e di ricostruzione, dall'Unione Europea, cofinanziamento al 95%, esempio di solidarietà europea. Lo dice la commissaria Cretu, che parla dell'oltre del miliardo destinato alle regioni colpite dalle calamità, tra cui l'Abruzzo. Spiace per la mancata, dice la commissaria, la mancata copertura del 100%, ma è un compromesso che consentirà di intervenire subito. e dunque sicuramente questa è comunque una buona notizia, perché arrivano fondi importanti, un miliardo e duecento milioni di euro destinati alle regioni colpite dalle calamità e tra queste c'è ovviamente anche l'Abruzzo. E poi il caso, scontro sui 50 milioni per rimuovere le macerie del sisma. Andiamo avanti per vedere ancora le pagine interne del centro. Siamo alla cronaca di Pescara con questa notizia che riguarda il viaggio da incubo a quattro anziani pescaresi dimenticati in autostrada lasciati dal bus a Bologna di ritorno dall'Austria e i bagagli sono finiti a Francoforte. La risposta della compagnia di viaggi hanno tardato in autogrill e presto riavranno le valigie. E poi a proposito di viaggi dall'autostrada ci spostiamo all'aeroporto perché bloccati cinque ore in aeroporto o senza acqua al camping quando la vacanza diventa un inferno ecco le disavventure dei pescaresi ma ottenere i rimborsi è possibile le associazioni consumatori spiegano come dunque si parla in questo articolo di quello che è accaduto un po' a tutti in tutta Italia disavventure in caso di viaggi con problemi sia sulle strade che negli aeroporti o anche come leggiamo da questo articolo del centro al camping senza acqua ma come dicono anche le associazioni dei consumatori si possono ottenere i rimborsi in alto si parla di cronaca la capitaneria impegnata nelle ricerche di una donna sparita da una nave da crociera e dunque giallo a largo di Pescara e anche la capitaneria di Porto è stata impegnata nelle ricerche di questa brasiliana di 35 anni che si trovava a bordo di una nave da crociera l'inchiesta è curata dalla procura della Repubblica di Brindisi e poi ruba la cassa inseguito e arrestato in manette un giovane cittadino di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri andiamo avanti blizzi in spiaggia di polizia e vigili sigilli al casotto occupato dall'ex vigile e è accaduto a Pescara e poi si parla della raccolta dei rifiuti il servizio porta a porta raggiunge un cittadino su due poi restando sempre a Pescara ma cambiando argomento si parla dello stato di difficoltà di tanti cittadini di tanti italiani che hanno difficoltà ad andare avanti ogni giorno cento poveri chiedono aiuto in cattedrale siamo a Pescara parliamo della cattedrale di San Cetteo e proprio per aiutare queste persone in difficoltà è stata istituita una lotteria ci sarà domenica sera l'estrazione proprio a conclusione dei festeggiamenti per San Cetteo e poi ancora restando a Pescara il consigliere comunale di centrodestra Guerino Testa dice basta bivacchi nell'area di risulta serve subito un'ordinanza di sgombero e poi casi a Via Lago Isoletta riparte la protesta il comune impugna la sentenza che aveva bocciato il progetto i residenti pronti ad un'altra battaglia proseguiamo manifestazione sabato e domenica parliamo della comic convention Pescara per due giorni sarà capitale dei fumetti e in basso si parla del Miss Grand Prix l'appuntamento di questa sera che si terrà sempre a Pescara ovviamente siamo in estate fioccano gli appuntamenti estivi in tutte le città della nostra regione dalla cronaca di Pescara ci spostiamo a Montesilvano blitz dei carabinieri a Santa Filomena senegalesi ancora sfrattati ma poi rioccupano la Pineta e poi sì a 300 posti auto per l'estate all'interno della Stella Maris la provincia da Il Via Libera al parcheggio l'area concessa uso gratuito al comune in cambio della presentazione di una polizza fideussoria saranno a carico dell'ente la recinzione e la pulizia blocca lo spaccio e rischia di essere ucciso città Sant'Angelo convince un minorenne a non drogarsi e viene colpito con due bottiglie l'aggressore è finito in carcere e poi Montesilvano nuovo video promozionale la spiaggia ripresa dal drone mentre a Pianella il comune salvato dal dissesto D'Amico risponde alle polemiche della di Tonto da lui nessuna idea e poi in basso città Sant'Angelo venerdì si terrà il trofeo dell'Angelo corsa podistica riservata agli amatori e poi Red Kanzian presenta il suo libro Montesilvano il cantante Depu ha scritto sano vegano italiano assieme alla figlia e dunque ci sarà la presentazione di questo libro da parte dello storico esponente Depu siamo ancora alla cronaca dell'area metropolitana di Pescara in questo caso a Francavilla un altro schianto frontale nella galleria tra genia sfiorata alle piane i conducenti se la cavano con ferite lievi due settimane fa ricorderete era morto un ragazzo in un terribile frontale sempre all'interno della galleria le piane siamo alla provincia di Pescara in questo caso all'area vestina all'alta Val Pescara partiamo da Penne protesta per l'ospedale cittadini di nuovo in piazza salviamo il San Massimo domani corteo a Pescara organizzato dal comitato che conta 2800 adesioni e poi ancora emergenza acqua alla periferia di Manopello OSS del sindaco all'ACA e poi aule provvisorie del Marconi ok del consiglio comunale siamo in questo caso di nuovo a Penne mentre il bagno nell'orta io l'ho sempre fatto l'ex sindaco d'Ottavio su Facebook parla delle multe che ci sono state negli ultimi giorni per quei cittadini che sono stati pescati se così si può dire a fare il bagno nel fiume è cosa vietata visto che ci sono state delle multe per queste persone che sono state trovate a fare il bagno nel fiume ci spostiamo a Chieti a Chieti dove una studentessa è stata ricoverata in ospedale per meningite universitaria di scienze e dell'educazione trovata in casa in stato di semi incoscienza dalle compagne avviata una profilassi per 12 amici e poi a San Vito ma loro in acqua muore 61enne di Ortona l'uomo si è sentito male vicino al bagnasciuga stroncato da un infarto probabilmente anche a causa del caldo e poi ci spostiamo a Tornareccio vedete a fondo pagina truffa del finto incidente primo arresto falso avvocato raggira anziane ad Archi e Tornareccio fermato dai carabinieri con un colpo di pistola siamo all'Aquila paura per l'esplosione di una bombola feriti due vigili e poi i lavoratori della Intex scrivono a Lolli subito un incontro per la nostra vertenza e poi questa brutta notizia che arriva da Pescina perché è stata imbrattata dai gnoti la tomba dello scrittore abruzzese Ignazio Silone la condanna del sindaco che dice gesto deficiente l'autore è un ragazzino dunque si è riusciti a risalire al presunto autore tra l'altro la famiglia di questo minore che evidentemente non si è reso conto della gravità del suo gesto si è scusata proprio per l'atto di questo giovane e poi in basso si rende velino polemica nella Marsica ciclisti dannosi nel parco possono entrare solo in 100 siamo a Teramo per parlare del rogo alla Richetti si cerca di salvare 190 posti di lavoro l'azienda propone tre mesi di cassa integrazione per i 90 fissi e l'impiego dei 130 interinali nella vicina ex fund invest ma per fare il punto della situazione su questa vicenda andiamo a vedere il servizio curato da Tania Bonnici Castelli 150 lavoratori la maggior parte donne da oggi senza lavoro attoniti davanti alla loro fabbrica che brucia siamo qui a Sant'atto a Teramo davanti alla Richetti un'azienda che produce fette al latte biscotti al latte e che è ridotta a un cumulo di macerie ho dato tutta la mia vita qua dentro tutto in famiglia ho lavorato come una mula capito ecco ecco qua ieri sera quando ho visto questo disastro è venuta la pella d'occhio chi l'ha avvertita? chi l'ha avvertita? mi ha avvertito un collega a me che io abito qua dietro che lei ha detto? niente ha detto viene che la fabbrica nostra è stata andare a fuoco è venuto qua mi ha fermato là perché i carabinieri hanno già fatto passare le fiamme arrivate su sopra 150 lavoratori come potranno essere tutelati adesso che sono rimasti senza lavoro la proprietà ha un altro opificio qui vicino a circa 100 metri vediamo quanti ne possono assorbire in quell'azienda altrimenti chiederemo l'azienda di aprire per tamponare l'emergenza la cassa integrazione ordinaria che è prevista per queste situazioni il tetto è di Ethernet rappresenta veramente un grande pericolo i sindaci della vallata sono in riunione sono in attesa dei risultati dell'Arta per eventuali ordinanze secondo lei com'è successo? non lo sappiamo nessuno ci dà spiegazioni in questo momento da quello che dicono le persone che erano presenti sembrerebbe partito dall'esterno l'incendio però ancora non c'è niente di certo ma doloso non lo sappiamo della Ricchetti resta salva una cella frigorifera di circa 1500 metri quadrati dalla quale stanno portando via i prodotti finiti i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme altissime che sembrano essersi sviluppate dal magazzino degli imballaggi il fumo e l'odore di plastica bruciata si avvertono a molti chilometri di distanza dal nucleo industriale di Sant'Atto e la nube si sta spostando verso la costa c'è disperazione nei volti dei lavoratori che nonostante l'aria irrespirabile restano immobili dinanzi ai cancelli della loro fabbrica distrutta restiamo alla provincia di Teramo chiusa la seggiovia di Prati di Tivo scaduta la gestione degli impianti affidata al consorzio Gran Sasso Prati incerta la riapertura noi abbiamo dunque esaurito le pagine di cronaca regionale e provinciale dal quotidiano il centro ora ci fermiamo per qualche istante andiamo a vedere le previsioni del tempo poi torneremo come sempre in studio per la seconda parte di mattino 6 di nuovo in studio seconda parte di mattino 6 abbiamo esaurito lo avevamo fatto prima della pausa le pagine interne del quotidiano il centro ora possiamo ripartire dopo aver visto all'inizio di questo appuntamento di mattino 6 la prima pagina del messaggero vedere le pagine interne dell'inserto abruzzo del quotidiano romano andiamo a pagina 2 ho inviato migliaia di sms basta caccia alle streghe Pietrucci la triade non è finita ma va colta l'esigenza del cambiamento non c'è stata diserzione ha inciso la finta discontinuità campagna troppo soft dunque vedete l'intervista all'esponente del partito democratico aquilano che parla del risultato sicuramente non positivo per l'aquila dove la vittoria è andata all'esponente invece di centrodestra Pierluigi Biondi e poi dimissioni nessuno me le ha chieste il segretario dem Stefano Albano rimanda qualsiasi valutazione al vertice di domani e all'assemblea e poi Biondi le prime spine sulla questione Fontari il nuovo sindaco al primo giorno di lavoro e all'orizzonte la grana ricorsi per il Gran Sasso poi incontro con i dirigenti del comune poi viaggio a Roma insieme a Cialente summit esplorativo per la nuova giunta la palla passa ai partiti e noi andiamo a vedere proprio nel prossimo servizio il toto giunta quali potrebbero essere i nomi dei nuovi assessori del comune dell'Aquila vediamo mentre il nuovo sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi incontrerà tutti i dirigenti comunali per far capire come lavora e fare un po' il punto della situazione ovviamente adesso l'attenzione è concentrata sulla composizione della nuova giunta comunale ed è già toto giunta ipotesi ovviamente che si facevano già prima del ballottaggio in un caso o nell'altro dovrebbero essere sicuramente assessori i noi eletti consigliere Guido Liris di Forza Italia Alessandro Piccinini di Fratelli d'Italia non si sa che ruolo potrà avere Carla Mannetti ha un'esperienza da direttore generale potrebbe fare il direttore generale dell'ente una nuova figura ovviamente oppure potrebbe essere anche vice sindaco se la Mannetti non sarà assessore il posto d'assessore potrebbe essere rivestito da Ersilia Lancia che replicherebbe così un'esperienza amministrativa che ha già avuto in provincia seppur per poco del resto Pierluigi Biondi ha sempre detto di voler dare un posto importante alle donne si fa strada anche l'ipotesi di dare un posto a Sabrina Di Cosimo alla sua prima esperienza ma bisognerà vedere come verrà composta la giunta dunque il condizionale è sempre d'obbligo dovrebbe restare fuori dalla giunta Giorgio Di Matteis mentre potrebbe entrare in giunta Luigi Deramo Emanuele Imprudente è uno tra i papabili però avrebbe manifestato un non grandissimo interesse per avere un posto in giunta preferendo piuttosto lavorare per il partito e per strutturarlo ancora meglio anche perché già si parla di regionali 2019 all'Aquila potrebbe essere il presidente del consiglio Roberto Tinari che è stato il vice di Benedetti l'opposizione ma potrebbe tornare anche Vito Colonna che è stato presidente del consiglio comunale nell'epoca di tempesta per quanto riguarda gli assessori ci sono anche dei nomi che circolano assessori esterni per Forza Italia potrebbe essere papabile Paolo Federico che è stato un po' il regista della campagna elettorale di Pierluigi Biondi ovviamente andrà valutata anche la partita delle liste civiche che avranno poco spazio in giunta ma potrebbero averne uno più importante invece nelle varie commissioni dunque c'è euforia nel centro-destra dopo la conquista del comune dell'Aquila Pagano e fratelli d'Italia dicono l'Aquila è un modello nazionale vedete l'articolo a fondo pagina lasciamo la cronaca politica ci spostiamo a Pescara delitto in alto mare il giallo dell'estate a largo di Pescara una donna brasiliana precipita dalla nave su cui si era imbarcata per lavoro la procura indaga per omicidio guardia costiera pescarese impegnata nelle ricerche del corpo e poi preso a bottigliate per storie di droga risolto il caso del marocchino massacrato inizio giugno in Manette un palestinese poi in basso più gita turistica che missione condanne per il Columbus Day la Corte dei Conti ha chiesto ai vertici del centro estero delle Camere di Commercio di risalcire il danno proseguiamo lo slalom tra le auto effetto giungla sulla pista ciclabile su via Regina Margherita si allenta la pressione dei vigili e dilaga la sosta in doppia fila rischi costanti per le bici e poi le buone azioni detenuti pescaresi a Loreto a Prutino con i malati e poi in basso lotta alla burocrazia gli industriali fanno i conti con la riforma Madia nella convention annuale e guerra ai vincoli ambientali ieri a tal proposito su questa assemblea di Confindustria Chieti Pescara che si era tenuta proprio ieri nel capologo Adriatico avevamo ascoltato il presidente di Confindustria Chieti Pescara Gennaro Zecca e poi il blitz via Riosto Montesilvano tornano gli spacciatori preso mentre vende droga a ragazzini così città Sant'Angelo ispirò Luigi Pirandello i 150 anni dalla nascita dello scrittore siciliano che fu commissario all'Istituto Spaventa l'esperienza raccontata nella novella notte che stasera verrà letta in piazza ovviamente a città Sant'Angelo e poi l'aiuto degli sponsor per arricchire l'estate si parla del cartellone estivo di Montesilvano e poi con Pescara Comic si gioca ai fumetti e Pescara ospiterà nel weekend questa importante manifestazione a proposito di eventi estivi funambolica ed estatica debutti in contemporanea sul Riviera Sud sempre a Pescara siamo all'Aquila esplode una bombola GPL paura per due vigili del fuoco e poi il caso niente violenza o tentata estorsione scagionati i tifosi dell'Aquila calcio e poi la sinfonica abruzzese al Maxi di Roma Di Pangrazio riapre il comune il giallo delle chiavi ieri l'ex sindaco era operativo nel suo ufficio aspetto dice la proclamazione di De Angelis chi pagherà la giornata alle dipendenti municipali rimaste parcheggiate scusate davanti alle porte chiuse e poi a proposito di squadra della nuova squadra di governo ad Avezzano venerdì ci sarà la proclamazione del nuovo sindaco che sarà Gabriele De Angelis Verrecchia sarà il suo vice andiamo a Sulmona Cogesa Gerosolimo impone il suo presidente e sempre a Sulmona cambiano i parroci fedeli in rivolta Roccaraso cambio al comando della base addestrativa mentre nella Marsica il caldo record fa aumentare e crescere l'allarme siccità non solo tra l'altro nella Marsica siamo a Chieti si finge 16enne su Facebook per adescare ragazzine indagato un quarantenne nei guai per violenza sessuale dopo l'appuntamento con una tredicenne l'adolescente pensava di fare conoscenza con un coetaneo e invece è stata molestata e poi la retata della finanza i nomi di tutti gli indagati vivono nel Chietino e nel Pescarese le persone finite in manette per truffa e riciclaggio due giorni fa c'era stata la conferenza stampa della Guardia di Finanza a Chieti su questa importante operazione poi meningite ricoverata giovane 22enne analisi per individuare il ceppo e poi le spine di Echieti via Carlo Altobelli sempre più nel degrado e poi l'incidente si brucia mentre da fuoco ai rovi è grave ha riportato Ustioni sulla metà del corpo un uomo di 84 anni è stato ricoverato al Sant'Eugenio di Roma al centro Grandi Ustionati in Prognosi riservata siamo la pagina di Lanciano Vastortona con certi sfrattati si apre il dibattito siamo a Lanciano Pupilla e Miscia difendono la scelta alternativa di spostare le iniziative a largo dell'appello per motivi di sicurezza dopo gli incidenti di Torino cartellone estivo al mare i monti tanti eventi fino alla fine del mese in Frentania mentre ad Ortona ovviamente il post ballottaggi nuova giunta e Toto Assessore in Polidori e Rabottini ricordiamo che il nuovo sindaco è Leo Castiglione espressione di alcune liste civiche e poi in basso a Lanciano massacrato dopo la scarcerazione truffa del falso avvocato un arresto e poi a vasto vandali scatenati in centro la rabbia dell'assessore siamo alla pagina di Teramo fabbrica distrutta incubo inquinamento scattano i divieti dopo l'incendio e la righetti abbiamo visto poco fa il servizio di Tania Bonnici Castelli e poi dopo lo stop ripartono i cantieri a Teramo addio alla contestata passerella dei Tigli scuola ospedale commercio in campo siamo a Giulianova ieri si è tornato a parlare di accorpamento di chirurgia e ortopedia con poi il Dei Sargri ad agosto e dell'abbattimento della Pagliaccetti se ridimensionano ancora di più il nosocomio e ricostruiscono la scuola media in un'altra zona per noi sarà davvero la fine dicono alcuni cittadini di Giulianova e poi a Martinsicuro poche donne nella nuova giunta ecco le prime indiscrezioni a Roseto casa civica accusa il sindaco a disatteso il programma tornando a Giulianova la cronaca inquinamento e droga denunce ed un arresto siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere come sempre le pagine interne invece del quotidiano la città di Terra poi nell'ultima parte come sempre apriremo la pagina sportiva andando a vedere anche le prime pagine dei quotidiani nazionali sportivi che troverete oggi in edicola partiamo dal quotidiano la città cronaca regionale pagina 3 studentessa ricoverata per meningite avviata la profilassi su una 22enne analisi per verificare il livello di eventuale contagiosità e poi Lanciano falsi incidenti stradali primo arresto in Abruzzo politica salta il consiglio regionale le opposizioni maggioranza in frantumi la conferenza dei capigruppo rinvia la seduta prevista ieri mattina l'assise si riunirà il prossimo 4 luglio il rogo alla richetti pericolo inquinamento da amianto a sant'atto Arta ASL e istituto zooprofilattico mobilitati per le analisi di aria e terreni per un chilometro attorno al cono di fumo dell'incendio proseguiamo c'è un'altra pagina relativa a questa vicenda già trovato un accordo per 250 lavoratori cassa integrazione per 13 settimane e riprese delle attività nell'altro sito e poi andiamo avanti cambiando decisamente argomento siamo a Terramo per parlare di politica non firmerò mai la sfiducia al sindaco Guido Campana sempre più deciso a dimettersi ma nonostante gli annunci non si è ancora dimesso e poi il Lions Club consegna 7 mila euro al vescovo per il restauro in basso si parla di ricostruzione abitare non sopravvivere al terremoto venerdì il workshop pensato da Tetra Kids sorpresi con l'auricolare all'esame della patente gli agenti della stradale si fingono candidati tra i banchi della motorizzazione e pizzicano due pakistani e poi a Terramo tre giorni di pulizia al parco fluviale con i bambini raccolta differenziata disagi invece a Villa Mosca fondi in arrivo per le attività extrascolastiche sport arte digitale lingue straniere nella graduatoria del MIUR spiccano i progetti delle superiori e Terramane ed è stato intanto per quanto riguarda la coppa in Terramina è stato pubblicato l'elenco delle scuole che alloggeranno gli atleti della Pallamano si avvicina il tradizionale appuntamento proprio con la coppa in Terramina di Teramo 350 in cammino per l'Africa l'iniziativa per le frazioni Terramane raccolto 3.500 euro da destinare ad un asilo in Tanzania andiamo ancora avanti non date da mangiare ai topi della villa il comune sembra non preoccuparsi del problema igienico-sanitario intanto chiede misure di buonsenso ai cittadini e poi nel quartiere Cona il giardino della vecchia chiesa è stato intitolato a Maria Capanna in basso iniziati vedete l'articolo i lavori ai giardini gamba corta proseguiamo per arrivare alle pagine della provincia l'agenziana di isola va di traverso al PD consiglieri stroncano l'immobilismo del comune su scuole e ricostruzione poi criticano il governatore a Crogna Leto il segretario PD Benito Bambabei muore per un infarto a 56 anni questa triste notizia che arriva dal piccolo centro scusate Barnabei Benito Barnabei scomparso improvvisamente a 56 anni questa notizia luttuosa che arriva proprio dal piccolo centro in provincia di Teramo in basso si parla della tradizionale benedizione dei veicoli alla Madonna delle Grazie la ci invita gli automobilisti a partecipare al rito religioso che si terrà nella giornata di sabato siamo alla pagina della Val Vibrata Sant'Egidio sciacallo sorpreso dai carabinieri a rubare in un supermarket inagibile e poi a controguerra furto con spaccata al bar dello sport villa e società da proventi illeciti la finanza gli sequestra tutto Foggiano da 30 anni residente nel Teramano perde 4 milioni e mezzo di euro in un solo colpo e poi una notizia che arriva da Martinsicuro istruttore di tiro muore suicida al poligono di Ascoli il trentenne si è tolto la vita dopo aver prelevato una pistola da esercitazione originario proprio del comune abruzzese siamo alla pagina di Giulianova via Bellini assegnazione imminente per le case popolari finite nell'inchiesta la patrimonio rilancerà strisce blu verde urbano e cimiteri stabilizzazioni in arrivo e poi scoperta una discarica abusiva lungo via Cupa trovati i responsabili poi Mosciano Sant'Angelo raddoppia il taxi sociale per disabili e anziani e poi la pagliaccetti va abbattuta e ricostruita dove era siamo sempre a Giulianova Paolo Bassanella preoccupato per il destino dei piccoli esercenti di via Gramsci siamo alla pagina politica Roseto Pineto Adri e Silvi con Di Sante il PD tende una mano a sinistra l'ex comunista nominato presidente del PD per affiancare alla segreteria il giovane Simone Aloisi e poi in basso Colonia recchiuti non teme denunce dai sedicenti balneatori danneggiati ancora pagina dell'Interland Terramano della Costa Silvia lontano minore dallo spacciatore aggredito e ferito a colpi di bottiglia palestinese di 32 anni arrestato dalla polizia per tentato omicidio Roseto degli Abruzzi Marioana e cocaina in tasca 23enne di notaresco arrestato dai carabinieri e poi Roseto seconda località turistica più conveniente dopo Alba Adriatica siamo arrivati alle pagine dello sport in questo caso vedete si parla di Teramo Basket che riparte dai suoi gioielli ma anche da altre notizie che riguardano lo sport in salsa Teramana noi andiamo a vedere invece lo sport dalle pagine del centro per parlare del Pescara ma partiamo anzi dall'Under 21 che saluta gli europei in Polonia gli azzurrini sono stati battuti per 3 a 1 dalla Spagna illusorio il pareggio di Bernardeschi siamo alla pagina relativa al Pescara il mercato dei biancazzurri Pescara prende Barison Coulibaly rispunta la Juventus vicino lo scambio di prestiti con il Bassano in Veneto va il terzino Carcalis oggi i bianconeri faranno una nuova offerta per il centrocampista senegalese e poi Vukusic l'ex biancazzurro ha accusato in un'intervista lo staff medico del Pescara su presunti guai fisici avuti nella sua esperienza in riva all'Adriatico attraverso il sito ufficiale è arrivata la risposta del Pescara ma per fare il punto della situazione sul mercato dei biancazzurri andiamo a vedere il servizio curato da Andrea Costantini con le firme dei due gioiellini atalantini Cristian Capone ed Emanuele Latte Latte sale a 5 il numero degli acquisti del Pescara per la prossima stagione anche in questo caso l'annuncio dei club è posticipato all'ingresso del nuovo anno sportivo dal primo luglio i due attaccanti esterni prelevati dal club aerobico arrivano con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto e sono profili ideali del 4-3 Zemaniano è una settimana importante comunque per il Delfino il presidente Sebastiani e il DS Leone sono in missione milanese in questi due giorni intanto per chiudere definitivamente l'acquisto dalla Juventus di Simone Andrea Gans nelle ultime ore è anche emerso un particolare era tutto fatto per il trasferimento del centro avanti all'Ascoli ma Gans si è rifiutato di firmare e i marchigiani hanno dovuto desistere insomma Gans vuole il Pescara e nelle prossime ore si chiuderà l'affare con la cessione a titolo definitivo del cartellino ma la missione di Sebastiani e Leone è anche imperniata sulle cessioni argomento spinoso ma anche essenziale spinoso perché trovare acquirenti soprattutto per i vari coda Stendardo e Bovo è complesso spinoso perché anche sui giocatori più appetibili al momento non si registrano sensibili accelerazioni certo nei prossimi due mesi ci potranno essere delle uscite ma Sebastiani oltre ad attendere l'ufficialità della cessione di Caprari alla Sampdoria nell'affare Skriniar vorrebbe centrare almeno una cessione importante entro il 30 giugno per motivi di bilancio comunque ci sarà bisogno di sfoltire prima di arrivare a nuovi ingressi perché anche con i rientri dei prestiti la rosa è extra large ed è noto che Zeman vuole lavorare con non più di 27-28 giocatori a tal proposito sono state ufficializzate le date che scandiranno il ritiro del Pescara raduno nella mattina di lunedì 10 luglio al convitto casa d'annunzio e partenza alle ore 10 per rivisondoli nel pomeriggio il primo allenamento il 15 e il 19 luglio le prime uscite contro una rappresentativa locale e contro la Virtus Teramo il 25 luglio l'amichevole contro il Teramo di Asta una partita che chiuderà la prima parte della preparazione estiva a rivisondoli dopo tre giorni di riposo il 29 luglio la partenza per Palena per la seconda parte del ritiro domenica 6 agosto con la gara di Coppa Italia il primo impegno ufficiale della stagione questo dunque il servizio curato da Andrea Costantini sul mercato del Pescara vediamo anche dalle pagine del messaggero le notizie che riguardano la formazione Bianca Azzurra e Pescara accelera per il Bomber Guns oggi forse la firma e poi Zampano Biraghi Brugman Ben Ali un poker scusate in offerta per il Chievo conferme in vista per Bovo Crescenzi e Campagnaro in partenza Coda e Stendardo e poi parliamo del Teramo vedete in basso il neodirettore sportivo della formazione Biancorossa Giorgio Repetto a Milano prova a chiudere per candido a fine settimana l'incontro con i dirigenti pescaresi nel Mirino i Giovani ma anche il centrocampista del Pescara Alessandro Bruno e poi Tambone il futuro niente campanilismi le rivalità locali ci riportano indietro di decenni il Pescara e il Traino del Movimento Chieti Giuliano e Lanciano dico che un buon vivaio vale più di un campionato vinto dice il dirigente sportivo abruzzese e poi Bastese ore decisive per la conferma di Fiore siamo in Serie D Bolami e Ottimista piacciono anche i Bebi Moffa e Albanesi e poi l'Aquila ora preoccupa il silenzio della cordata e noi sul campionato di Serie D e sul mercato delle abruzzesi andiamo a vedere questo servizio primi movimenti per le sei squadre di Serie D attivissime in particolare Vastese Pineto ed Avezzano dopo il burrascoso finale della scorsa stagione il patron marsicano Gianni Paris si è rimesso subito al lavoro rimodellando lo staff tecnico capeggiato dal neo di essa Antonello Cellini e dall'allenatore Umberto Marino già tecnico del Chieti due stagioni fa dopo le dimissioni di Donato Ronci ed ex vice di Ivo Iaconi sul mercato il fiore all'occhiello e l'accordo con l'attaccante polacco Piotr Branićki una garanzia per la categoria e fresco vincitore del giro di G con la maglia dell'Arzachena dalla Spagna sono arrivati il jolly difensivo Alan Rodriguez e il regista di centrocampo Francisco Masperes trattative ben avviate con due difensori in uscita dall'Agnonese Luca Cassese e Derminio Rullo già confermati giovani come Lombardo Pollino Serrago Morgan e Denis Besana altro obiettivo per l'attacco il fanese Gucci squadra in ritiro dal 24 luglio a Caramanico Terme stesso giorno per l'inizio della preparazione estiva della Vastese a Bomba nel Chietino il patron Bolami è tornato al passato richiamando in panchina Gianluca Colavitto esonerato frettolosamente la scorsa stagione Neodies Francesco Micciola che arriva dopo l'ottimo lavoro a San Nicolò si riparte dai migliori giovani dello scorso anno e dalla conferma di Nicola Fiore e poi si punterà su altri vastesi doc come il difensore Damiano Menna ex Avezzano e il centrocampista Cristian Stivaletta in uscita dal San Nicolò a Pineto la confermata coppia direttore allenatore Gianmarino Amaulo è al lavoro da un po' e ha strappato confermi importanti Pomante Mariani i portieri Mazzocchetti e Giacchetta partito proietti l'obiettivo è ora trattenere i vari esposito Fiumare Cercelluti per poi puntare a degli innesti di qualità riparte con un nuovo ciclo tecnico il San Nicolò che dopo gli addi di Micola ed Epifani e la sinergia con la Virtus Teramo ha annunciato il Neo DS si tratta dell'ex Avezzano Stefano De Angelis tanti nomi per la panchina Davide Ruscitti e Gigi Yervese dalle giovanili del Pescara un profilo esperto come Roberto Cappellacci due outsider dall'eccellenza come Pasqualino di Serafino e Peppe Naccarella all'Aquila situazione al momento resa incerta dalla trattativa per la cessione delle quote sociali tutto fermo anche se l'allenatore Battistini e il suo staff dovrebbero essere confermati a prescindere dal tir e molla societario in casa della neopromossa Nero Stellati tiene banco la questione campo l'impianto di Pratola non è a norma per la D e allora la matricola giocherà al Pallozzi di Sulmona forse per l'intera stagione le abruzzesi in Serie D potrebbero essere sette in caso di ripescaggio del Francavilla dopo l'addio del patron De Vincentis il commerciarista pescarese Vincenzo Serraiocco è al lavoro per rilevare la società per poter presentare entro il 9 luglio la domanda di ripescaggio con grandi probabilità di positivo accoglimento E questo dunque il punto sempre curato da Andrea Costantini sul mercato delle abruzzesi di Serie D in vista del prossimo campionato con l'augurio che possano essere sette le nostre formazioni nel campionato nazionale grazie al ripescaggio del Francavilla che ricordiamo aveva perso gli spareggi nazionali di eccellenza con la formazione marchigiana del Cerreto Fabriano siamo all'ultimo titolo del messaggero che riguarda il basket perché l'imprenditore Gabriele Marchesani parla del pallacanestro Chieti e dice così faremo rinascere il Chieti il basket teatino dopo la retrocessione in Serie B siamo quasi in chiusura abbiamo però il tempo per vedere anche le prime pagine dei quotidiani sportivi dei tre quotidiani sportivi nazionali oggi in edicola andiamo a vedere lo faremo tra qualche istante la prima pagina della Gazzetta dello Sport ovviamente si parla della sconfitta dell'Under 21 ieri sera con la Spagna nella semifinale degli europei Under 21 la Spagna vale Gigio non vola l'Italia perde 3 a 1 ed è eliminata Gigio non vola il riferimento è a Donnarumma che non è stato protagonista di una grandissima gara e poi sentite Ronaldo Inter che bel colpo Spalletti stratega è un buon gestore parla l'ex Nerazzurro proprio sul nuovo tecnico della formazione Meneghina e poi Sabatini prende Scriniar c'è l'ok della Sampdoria stiamo parlando ovviamente di mercato Milan in pressing sul turco Kalamoglu e stringe per l'Atalantino Conti e poi Sirigu portiere del Torino Cairo dice prima scelta Atalanta c'è Palomino e poi in alto una notizia che riguarda Max Biaggi fine di un incubo ha lasciato ieri l'ospedale dunque in bocca al lupo al campione di motociclismo italiano ecco la prima pagina del Corriere dello Sport guarda che lupa si parla della Roma Roma scatenata con arrivi a raffica sul mercato in alto vedete la Spagna è troppo forte Lander si arrende 3 a 1 per gli iberici in basso Buffon va a caccia del nono Scudetto Gigi cerca un'impresa unica nella storia e poi Inter a fare fatto Spalletti si prende Scriniar e poi si parla della Fiorentina società in vendita nessuno però si fa avanti infine Biaggia a casa che emozione io in pista ancora non so e chiudiamo con tutto sport Manitoro Sirigu è il nuovo portiere della formazione torinese orgoglioso di essere Granata Vale Rossi il mio idolo Valentino Rossi ovviamente di Balaguin si parla della Juventus inseparabili e poi Incubo Spagna per l'Italia battuta con il risultato di 3 a 1 è finita dunque l'avventura della squadra di Gigi di Biagio in Polonia noi invece abbiamo chiuso l'appuntamento di oggi con Mattino 6 ringrazio Silvia Gentile in regia ringrazio voi per averci seguito vi ricordo il prossimo appuntamento informativo della giornata come sempre alle 14 con la prima edizione del TG6 grazie ancora per essere stati in nostra compagnia l'augurio di una serena giornata grazie a tutti grazie a tutti